Purtroppo, spesso nella vita cristiana, tendiamo a pensare più a noi stessi che a Dio. Lasciatemi spiegare meglio questo concetto. Per Dio, vantandoci, tendiamo a vederci in modo storto, ma focalizziamo su noi. O a volte, non sui nostri peccati e non su quanto siamo bravi, ma sui nostri pesi, i nostri problemi. Ma in tutti questi campi, lo sguardo è su noi. Questo è spagliato. Questo è spagliatissimo. E porta scoraggiamento, oppure orgoglio, porta un cuore indurito, porta solo del male. La chiave della vita cristiana, che sappiamo, viviamo per, il giusto vivrà per fede. Ma che cos'è la fede? Se non guardare a Dio. La fede è pensare a Dio. Pensare a quello che Dio ha già fatto per noi è quello che sta facendo per noi. Riempire la testa, i pensieri con Dio, la sua persona, la sua opera. Quando i nostri pensieri sono focalizzati principalmente su noi stessi, per forza viviamo male. Quel male può essere diverso da persona a persona. Chi è indurito, chi è orgoglioso, chi è preso con il mondo, chi è preso con le faccende, chi è scoraggiato, chi è abbattuto. Però, vivremo male, avremo poco o niente di gioia, non sentiremo pace nel cuore. Sarà una vita cristiana pesante e scoraggiante, al meglio, se focalizziamo su noi stessi. Quando invece? E grazie a Dio, questa è la portata del più debole credente. Quando invece scegliamo di focalizzare su Dio e su quello che Gesù Cristo è, e quello che ha fatto per noi, e quello che sta facendo in questo momento per noi. Quando focalizziamo sui benefici che abbiamo in Cristo, sulle promesse sicure che abbiamo, in cui Gesù Cristo è la garanzia di tutte le promesse, e quando tutti i giorni stiamo scegliendo di pensare a questo, avremo gioia nella salvezza, avremo vittoria su peccato, avremo una vita vittoriosa e con frutto. Quindi, in un certo senso, la cosa più importante della vita è dove fissiamo il nostro sguardo. Quindi oggi vorrei prendere questi minuti per stimolarci, in questo, per stimolarci a fissare il nostro sguardo oggi su un aspetto specifico, l'amore di Dio. L'amore di Dio. Questo grande, immenso amore di Dio. In questo sermone voglio parlare dell'amore di Dio. Vorrei notare specificamente che nella Bibbia, l'amore di Dio non è mai qualcosa che quelli amati meritano. Non è mai legato al loro cammino. Non è mai legato a quanto sono buoni e bravi. Quello è importante, ma non riguarda l'amore di Dio minimamente. Dio ama perché è una sua scelta di amare. E non dipende dalle nostre cadute, dai nostri peccati, o come quanto amiamo Dio. Per quanto tutto quello è importante, non c'entra nulla con l'amore di Dio. Nell'Antico Testamento, ripetutamente, vediamo che l'amore di Dio non è mai meritato da coloro che Dio ama. Pensate, per esempio, al popolo di Dio, che Dio salva dall'Egitto, ma non erano buoni, non amavano Dio. Ma aveva deciso di fare quello alla discendenza di Abramo. Li fa attraversare il Mar Rosso sulla terra asciutta. E cosa fanno? Volta, dopo volta, dopo volta, si lamentano contro Dio. Peccano contro Dio. Arrivano perfino ad adorare gli idoli che erigono. Nonostante questo, e che continuò per secoli, nonostante questo, Dio continua ad amarli, senza mai smettere minimamente. non meritavano quell'amore, meritavano di essere distrutti in un attimo. Ma Dio continuava ad amarli, perché era una scelta sua. Certo, una parte dell'amore era la disciplina, ma la disciplina non è mancanzi di amore, è proprio, visto che li amava, di farli tornare a lui. Ma mai ha smesso di amarli. Qualche brano, vi leggo qualche brano, lo scopo è di farci capire, oh, non ha amato loro perché erano bravi, buoni, o ubbidienti, solo perché aveva scelto loro. Leggo prima Deuteronomio 7, versetto 7 e 8. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto, perché eravate più numerosi di alcun altro popolo, eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del farone, re di Egitto. Dio non ha scelto il suo popolo perché era un grande popolo con grande valore, piuttosto era un piccolo popolo che non aveva alcun merito, alcun valore. È stato Dio a scegliere loro per amore, senza alcun merito. Un altro brano, Deuteronomio 9, ci aiuta a capire questo. Deuteronomio 9, 5 e 6 Non è per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore che tu entri a occupare il loro paese, ma è per la malvagità di queste nazioni che l'Eterno, il tuo Dio, le sta per scacciare davanti a te. È per addempiere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abrahamo, ad Isacco e a Giacobbe. Sappi dunque che non è per la tua giustizia che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in possesso questo buon paese, poiché tu sei un popolo dal collo duro. Anche qui il messaggio è chiaro. Tutta la bontà di Dio che aveva riversato sul suo popolo non era dovuto al fatto che erano buoni, che obbedivano bene, perché non erano buoni, non obbedivano come dovevano. Assolutamente l'amore di Dio aveva origine nel cuore di Dio. Non dipendeva da loro. Quindi non avevano meritato quell'amore e per quello non potevano perdere quell'amore. Passate ora a Geremia 31 versetti 1 a 3. Questo brano ci spiega che l'amore di Dio per il suo popolo è un amore eterno che non ha origine nelle persone che Dio ama ma in Dio stesso e in Dio solo. Leggo Geremia 31 In quel tempo dice l'Eterno io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele e esse saranno il mio popolo. Così dice l'Eterno il mio popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto quando io stavo per dare riposo ad Israele. Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo sì ti ho amato di un amore eterno per questo ti ho attirato con benavolenza. Ti ho amato con un amore eterno per questo ti ho attirato con benavolenza. L'amore di Dio sia l'amore per Israele sia l'amore per te che sei un credente è un amore eterno non ha origine in te non dipende da te e non dipenderà mai da te dipende esclusivamente da Dio quanto è importante che ricordiamo questo. L'amore di Dio è un amore eterno non è perché noi siamo bravi non ci ama di più quando camminiamo meglio non ci ama di meno quando cadiamo non sto dicendo che non importa quando chiediamo importa tantissimo ma non per quanto Dio ci ama non per quanto Dio ci ama potremmo passare ore e ore nell'Antico Testamento vedendo versetti ed esempi dell'amore di Dio per il popolo di Dio e che non era meritato da loro però vorrei arrivare al Nuovo Testamento per capire che non era solo per Israele ma è per noi è per noi è importante che riconosciamo che questo è il cuore di Dio per noi quindi guardiamo alcuni brani nel Nuovo Testamento Giovanni 3,16 e 17 che conosciamo a memoria questo ci ricorda che l'amore di Dio per noi non ha origine in noi Giovanni 3,16 e 17 poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna Dio infatti non ha mandato il suo figlio al mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui Dio ha tanto amato il mondo e se fai uno studio sul mondo viene usato sette volte se non sbaglio diversamente nel Nuovo Testamento nella Bibbia questo sarebbe coloro che avrà salvato ha tanto amato gli uomini quando erano peccatori che ha mandato il suo figlio cioè Dio ha amato il mondo quando vedeva il peccato del mondo e non vedeva altro perché non c'era altro quando non c'era del bene non c'era dell'obbedienza non c'era nulla per attirare lo squadro di Dio e in quella condizione Dio ha amato quanto ha amato quanto al punto di dare il suo unigeneto figlio mandarlo come sacrificio per il peccato di uomini ribelli insensati schiavi dei loro peccati l'amore di Dio non è dovuto a qualcosa di merito in coloro che Dio ama e perciò non è che possiamo perdere l'amore di Dio perché non dipende da noi se tu mai pensi che Dio sia più lontano da te allora tu puoi non essere in stretta comunione con Dio se vivi nel peccato ma non puoi essere amato meno da Dio e se mai ti senti che Dio ti allontana e non ti ama è un pensiero falsissimo Dio ti ama perché quella è una scelta sua e non dipende da te e io voglio invitare ciascuno di voi a meritare su questo questo non vale niente come verità che tu sai se non vivi questa verità se non scegli di ricordare questa verità se non durante il giorno ripetutamente signori in questo momento tu mi guardi con amore perché quello è il tuo cuore per me oh signori sono caduto sono caduto eppure mi guardi con amore e perciò io torno a te e confesso il mio peccato oh che possiamo ricordare questa verità passo a Romani 5 un brano che conosciamo grazie a Dio molto bene ma voglio leggerlo di nuovo notare quando è che Dio ha scelto di amarci dipende qualche minima parte da noi Romani 5 da 1 a 10 questo amore immenso no non dipende da noi leggo giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nel quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio e non soltanto questo ma ci vantiamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce perseveranza la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza ora la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato perché mentre eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto forse qualcuno aderebbe morire per un uomo da bene ma Dio manifestò il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi molto più dunque essendo ora giustificati nel suo sangue saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui infatti se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo per mezzo della morte del suo figlio molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita e non solo ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione noi siamo saldi nella grazia cos'è grazia? è la bontà che noi non meritiamo e che non potevamo mai meritare siamo salvati per grazia la nostra salvezza l'amore di Dio per noi non sono meritati l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori quando? quando eravamo ancora peccatori lui ha iniziato la sua opera di amore mandando Cristo per noi e poi ci ha salvato ha sparso il suo amore nei nostri cuori Dio vuole che conosciamo il suo amore Dio vuole che pensiamo al suo amore Dio vuole che pensiamo a questo tutti i giorni Dio vuole che siamo presi perché è così immenso il suo amore tu visto che è così grande pensi tutti i giorni all'amore di Dio per te non in senso doctrinale ok signore o mio elenco ti ringrazio per il tuo amore ti ringrazio per la tua bontà no 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 sto parlando non di menzionarlo in una preghierina sto parlando di pensarci di pensarci signori questa prova difficile viene dalla tua mano amorosa questa prova difficile è gestita dal tuo amore perfettamente perché tu mi ami e non sta durando troppo questo è da te perché tu mi ami e tu sai cosa mandarmi allora io ti ringrazio che mi ami ti ringrazio che tu sei in controllo ti ringrazio che questa prova porta dal bene tu fai cooperare tutte le cose al mio bene perché mi ami oh signori grazie per questo ci pensi ci pensi ok lo spirito santo ci aiuti a comprendere più questo notate anche in questo brano che Dio manifesta il suo amore per noi mentre eravamo ancora peccatori e quanto grande è l'amore dando suo figlio Gesù Cristo cioè non potevamo essere peggio e l'amore non poteva essere più grande noi non potevamo essere peggio mentre eravamo senza forza vuol dire senza alcuna capacità di fare qualunque cosa per Dio e ha fatto il dono più grande le nostre cadute non cambiano l'amore di Dio per noi Dio non ci ama perché siamo bravi o buoni Dio Dio ci ha amato e continua ad amarci nella nostra condizione peggiore e Dio ha fatto l'impensabile e l'indispensabile ha dato Gesù Cristo per salvarci questo è l'amore per coloro che egli salva quell'amore non varrà mai meno visto che Dio ci ama così tanto e ci ama così tanto non serve dubitare l'amore di Dio per noi come se Dio dovesse aver scelto di non tenerci come i suoi perché siamo caduti non ci ha presi perché siamo bravi che stoltezza la menzogna che forse non sono salvato perché non cammino bene non sei stato salvato perché camminavi bene sei stato salvato perché tu eri un peccatore che Dio voleva salvare e Dio ti ha rigenerato e Dio ti ha donato la fede e Dio ti ha donato il ravvedimento avendo prima di tutto mandato Gesù Cristo no la salvezza non è dovuto di qualcosa che tu hai fatto non puoi perdere la salvezza perché tu non hai guadagnato la salvezza ma io ho creduto grazie a Dio hai creduto certo non puoi essere salvato senza ravvederti e credere e devi tutti se tu non hai Cristo devi fare quello ma se hai creduto perché la fede è un dono di Dio e in Atti 11 leggiamo che Dio ha concesso il ravvedimento la salvezza è un dono di Dio Dio non ci ama di più quando siamo bravi e Dio non ci ama di meno quando siamo mancanti nei suoi confronti oh quanto è importante non essere mancanti oh quanto duro può essere la disciplina di Dio quanto possiamo mancare il senso di pace nel cuore quanto possiamo avere rimpianti oh importa importa ma non cambia l'amore di Dio per noi parlando di questo amore di Dio per noi trovate con me un altro brano che conosciamo Romani 8 28 a 39 nulla può separarci da questo amore nulla grazie a Dio nulla comprende le nostre cadute nulla comprende la nostra debolezza nulla comprende i nostri dubbi oh che possiamo conoscere più questo amore leggo ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primo genito fra molti fratelli e fra quelli che ha predestinati li ha puri chiamati quelli che ha chiamati li ha puri giustificati e quelli che ha giustificati li ha puri glorificati chiederemo dunque circa queste cose se Dio è per noi chi sarà contro di noi certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi come non ci donerà anche tutte le cose con lui chi accuserà gli eletti di Dio Dio è colui che li giustifica chi è colui che li condannerà Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada come sta scritto per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte siamo stati reputati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezza né profondità né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore è importante che cresciamo nel comprendere di più il cuore di Dio per noi e che nulla può cambiare il suo cuore per noi e che nulla può separarci da quell'amore come dicevo quel nulla comprende tutto quello che può succedere a noi e tutto quello che noi possiamo fare l'amore di Dio ha origine in Dio e non dipende dal nostro comportamento o quello che succede a noi non è e se uno dice allora non importa se io pecco no se tu hai quel cuore se hai quel cuore è una chiara dimostrazione che non hai lo Spirito Santo e non sei salvato se tu pensi che non importa che tu pecchi eh ma Dio mi ama non importa ah dove la il peccato abbonda la grazia sovrabbonda e quindi posso peccare no lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia e a chi pensa come ho appena detto leggi prima Giovanni attentamente chi dice io l'ho conosciuto e continua a camminare il peccato e non è aggravato e non chiede perdono perché non non importa non l'ha mai conosciuto però se tu come credente riconosci quanto tu cadi e ti affligge ma dice ma non mi affliggi abbastanza perché mai ci affliggi abbastanza nessuno è mai nessuno è mai aggravato abbastanza per il peccato non in questa vita perché se non è possibile cioè Dio è assolutamente santo e noi non vediamo la pienezza e la santità di Dio non possiamo capire la gravità del peccato se non vedo la pienezza e la santità che non è ancora possibile quindi dobbiamo sempre essere più aggravati di quello che siamo ma Dio non ci ama meno per le nostre cadute finché restiamo nel peccato non avremo la gioia e la salvezza e non avremo la pace che si sente non avremo ricca comunione con Dio non saremo ripieni di spirito non produrremo frutti ma nulla ci separerà dall'amore di Dio e Dio farà il necessario per farci tornare a Lui quanto è più bello quando restiamo con Lui voglio vedere un altro brano solo per ricordarci Dio ci ha amati quando noi eravamo morti nei nostri peccati leggo Efessini 2 iniziando versetto 1 quando è che Dio ci ha amati Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli nei peccati nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne ad impendo e desiderio della carne e della mente eravamo per natura figli di era come anche gli altri ma Dio parole incredibili ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù mi fermo là quando e come Dio ha operato Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati quando eravamo morti nei falli ci ha salvato allora le nostre tante cadute non cambiano l'amore di Dio per noi il motivo per cui Dio ci ha vivificati con Cristo non era perché eravamo bravi era per il suo grande amore e quindi nulla cambia quel amore tu stai pensando a questo vediamo questo in brano dopo brano dopo brano io non leggo ma se leggessi Romani 9 parla del fatto che ha scelto di amarci secondo Tessalonicesi 2 13 leggo quello ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio fratelli amati dal Signore perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello spirito e la fede nella verità fin dall'inizio prevedendo il vostro peccato Dio vi ha eletti alla salvezza per amore questo è il cuore di Dio secondo Timotio 1 9 rende chiaro che la salvezza non è dovuta alle nostre opere parlo di Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione non in base alle nostre opere ma secondo il suo proponimento e la sua grazia che ci è stata data in Gesù Cristo prima dall'inizio dei tempi notate che la grazia ci è stata data in Cristo prima dall'inizio dei tempi Dio ci ha amato non avevamo fatto niente per meritare quell'amore e quindi l'amore di Dio non è meritata questo è quello che leggiamo volta dopo volta voglio leggere Tito 3 3 a 7 anche noi infatti un tempo eravamo insensati ribelli erranti schiavi di varie concupiscenze e volutà vivendo nella cattiveria e nell'invidia odiosi e odiandoci gli uni gli altri ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna questo brano ci spiega l'amore di Dio per noi e la sua misericordia non erano dovuti insieme alla sua bontà a nulla di buono in noi Primo Giovanni 4 10 e 19 in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati 19 noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo vedere l'amore di Dio immeritato è quello che suscita in noi amore per Dio e obbedienza a Dio e gioia in Dio Dio non ci ama di più quando camminiamo bene non ci ama di meno quando siamo un disastro e siamo spesso un disastro Dio ci ama perché Dio ci ama e nulla cambia con l'amore e quindi io voglio lasciarvi con questo pensiero pensa merita focolizza sull'amore di Dio se ci fermiamo a considerare la santità di Dio quanto riusciamo a comprendere e quanto ogni peccato è un'abominazione a Dio e se fermassimo a pensare alla santità di Dio e poi a quanto noi cadiamo diventa chiaro che se l'amore di Dio dipendesse da noi Dio non ci amerebbe mai non potrebbe il minimo peccato e dovrebbe smettere di amarci se dipendesse da noi se l'amore dovesse essere un po' meritato Dio non ci amerebbe perché al nostro meglio siamo ancora imperfetti il nostro peccato è troppo terribile agli occhi di un Dio tre volte santo Dio non amerebbe mai nessuno se dipendesse da noi però come abbiamo visto ripetutamente in questi brani e tanti altri che ci sono Dio ama perché è il cuore di Dio ad amare quindi fratelli e sorelle non è una verità intellettuale da sapere è una verità preziosa e meravigliosa a cui dobbiamo aggrapparci dobbiamo pensare tutti i giorni a questo al nostro meglio siamo mancanti e cadiamo spesso davanti a un Dio Santissimo ma le nostre cadute non cambiano il suo amore per noi e quindi dobbiamo scegliere è una scelta è una scelta possiamo avere bisogno di appoggi possiamo incoraggiare gli uni gli altri possiamo farci dei ricordi imparare i versetti a memoria fare quello che serve perché i miei pensieri non vanno lì vanno giù a me stesso a quanto sono un disastro alle mie debolezze ai miei problemi alle mie faccende io ho bisogno di organizzarmi per pensare abbastanza che non è mai abbastanza all'amore di Dio ma se noi scegliamo di pensare all'amore di Dio per noi ci cambierà la vita allora se io sei tu non pensiamo all'amore di Dio per noi se è un pensiero che onestamente raramente ci entra in testa la vita cristiana sembrerà un durissimo gioco non avremo non avremo gioia avremo sconfitta dopo sconfitta con il peccato saremo pieni di dubbi avremo un cuore abbattuto o amargiato e tutto questo male arriva se scegliamo a pensare a noi stessi la nostra situazione i nostri pensieri i nostri problemi anziché a Dio se invece scegliamo di pensare tutti i giorni a Dio e al suo cuore per noi al suo amore per noi alla sua potenza alla sua sapienza nel gestire tutto cambia tutto ci protegge dallo scoraggiamento ci protegge dai dubbi dubbi non riescono a stare nella stessa stanza dove c'è il pensiero dell'amore di Dio vengono scherciati pensare all'amore di Dio ci fa vedere l'inganno del peccato cosa può offrirmi quella tentazione in confronto con l'amore di Dio penso all'amore di Dio ci stimola a combattere il buon combattimento perché so che quel Dio mi porterà fino in fondo ci incoraggia a spenderci per la gloria di Dio perché vedendo il suo amore per me così immenso io voglio vivere per Lui quindi quando leggi la Bibbia fermati a riconoscere che il Dio di cui stai leggendo è il tuo Dio non leggi per imparare i fatti su Dio per poter insegnare e raccontare ad altri per quanto ha un certo valore ma leggi per conoscere sei il tuo Dio stai leggendo il tuo Dio grazie a Dio il nostro Dio quando leggi della sua cura del suo popolo guarda come non smetti di amare Israele fermati ma signore quello è vero per me non smetti di amare me guarda come gestiva tutto quello che ha fatto con Giuseppe ma sembrava terribile ma era tutto gestito signore la mia vita è tutto gestito mi trovo sembra nel carcere in Egitto ingiustamente ma non è uno spaglio stai lavorando anche nella mia vita quando Davide viene unto come re e poi deve scappare per la vita da Saul ma signori è abbandonato da tutti oh no signori ecco capisco tu stavi preparando il suo cuore e le mie prove servono per me tu stai gestendo per me per il mio bene leggi per conoscere il tuo Dio non leggi per conoscere i fatti storici di Dio leggi per conoscere il tuo Dio per capire che sta lavorando nella tua vita con amore quindi se tu sei un figlio di Dio io voglio incoraggiarti a pensare molto di più all'amore di Dio e poi riempiti con ringraziamenti ringraziamenti a Dio profondi e ripetuti per questo grande amore possiamo avere grande gioia se scegliamo di tenere i nostri occhi fissi su Dio e in un modo particolare sull'amore di Dio per noi che è la base di quello che Dio fa tu vuoi gioia vuoi vittoria vuoi essere incoraggiato nelle prove vuoi avere vittoria ai suoi peccati vuoi sentire la pace pensa a Dio e al suo amore per te in Gesù Cristo e se tu non hai Dio non devi dire eh ma non ama me ravvediti credi in Gesù Cristo riconosci il tuo bisogno e tu conoscerai quell'amore perché Dio dice chiunque viene a me dice Cristo io non lo caccerò via chiunque viene a me ok possiamo conoscere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo preghiamo Signore nostro e per grazia possiamo dire possiamo dire Padre nostro non era possibile perché noi eravamo figli di era ma tu ci hai amati prima era la creazione del mondo ci hai eletti alla salvezza e ci ami tuttora e ci amerai per sempre e non vogliamo cadere e non dovremo cadere ma Padre cadiamo ma non cambia il tuo amore per noi allora io semplicemente ti dico grazie grazie per il tuo amore per noi così grande che quando eravamo morti insensati ribelli erranti schiavi del peccato nella tua grande bontà ci hai amati e hai usato misericordia per rigenerarci e tu continui la tua opera perché tu porterai a compimento l'opera che tu hai iniziato in noi cosa possiamo dire? possiamo dire che siamo stati stolti tante volte stolti scegliendo di pensare a tutt'altro che te e il tuo amore per noi e ti chiedo perdono personalmente e in nome di noi tutti ma non dobbiamo continuare a vivere così oggi lo Spirito Santo ci ha parlato ci ha mostrato qualcosa in più del tuo immenso amore oggi possiamo scegliere di concentrare su te pensare a te e al tuo amore per noi e alla tua potenza le promesse ti prego che possiamo fare questo che possiamo aiutare gli uni e gli altri a fare questo perché ci trasformerà la vita tu ci hai provveduto tutto questo ti ringrazio che tu ci ami così in modo che possiamo pensare a questo amore opera in noi e grazie per il tuo amore ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo e nel suo nome ti prego Amen grazie a tutti Grazie a tutti.